salve amici e amiche allora gli argomenti di oggi ve li anticipo saranno appunto aggiornamenti dal fronte un caso strano di un aeroplano con le palle letteralmente poi la televisione russa e qualche altra chicca interessante perciò mettetevi comodi se non l'avete ancora fatto pigiate il bottoncino qui in basso che dice iscriviti e mi piace e grazie mille per il vostro supporto morale in questa battaglia epica di noi youtuber poveri in canna contro gente che ha preso 400 mila dollari al mese per passare le veline del cremlino allora per quanto riguarda gli aggiornamenti del fronte vi confermo quanto vi ho riportato ieri è importante dire che lo slancio rabbioso russo verso pokrovsk a seguito dell'invasione ucraina nella regione di kursk momento in cui è evidente che il cremlino ha voluto forzare la mano e spingere con tutte le sue forze per conquistare gli ultimi 8 chilometri rimasti fino alla città ucraina questa scelta strategica gli si è ritorta contro e nel modo peggiore possibile infatti sono ormai quattro giorni che i russi non riescono più a spingersi in avanti non posso mostrarvi i video e non posso neanche parlare delle immagini che arrivano proprio da quest'area ma comunque proverò a darvi un'idea dicendo che in questa avanzata negli ultimi 30 giorni si parla di qualcosa come 30.000 vittime nelle file russe con una media di 600 soldati caduti al giorno questa avanzata verso pokrovsk si è fermata in dei veri e propri fossati costruiti dal genio ucraino anche piuttosto profondi alcune volte e che le immagini che arrivano dai droni ucraini mostrano letteralmente piene di corpi di questi soldati questo accanimento poi verso pokrovsk a voler dimostrare a tutti i costi che il cremlino può ignorare la presenza ucraina nella regione di kursk se dobbiamo basarci sulle parole di putin che diceva che non ha mai visto tante offensive russe come in questi giorni nel donbass beh per quella che di fatto dobbiamo considerarla come la fine o il culmine dell'offensiva estiva da parte russa che si è trasformata in migliaia di vittime e mezzi distrutti quindi da qui dovemo mostro sulla mappa non riescono a passare almeno unità russe provano ad agire un po più a sud in posizioni di ripiego ma i combattimenti in questa regione comunque sono i più violenti e intensi mai registrati in oltre due anni e mezzo di conflitto e ancora gli ucraini ringraziano che la strategia russa sia giusto questo molto semplice mandare avanti i soldati nel modo meno conservativo possibile in questo modo gli ucraini possono mazzini massimizzare i danni inflitti al nemico e questo è quanto ora anche la situazione a volenar si è arrestata da tre giorni almeno le posizioni ucraine tengono e continuano a infliggere perdite mediante l'utilizzo dei droni fpv spostandoci poco più a nord il risultato più eclatante da parte ucraina e la liberazione di una grossa parte della città di new york per una situazione che era in stallo da mesi e questo è successo grazie a una brigata delle forze speciali azov la brigata era stata chiamata per operazioni nell'area di torensk per migliorare la posizione tattica delle forze di difesa ucraine in queste ore la brigata sta continuando ad operare per liberare più soborghi in questo centro abitato la situazione in ogni caso in quest'area rimane molto tesa con le forze russe che lanciano fino a 15 assalti al giorno 15 assalti si comunque parliamo di piccoli gruppi di soldati ma avviene di continuo la brigata ha comunque dimostrato con i fatti che la propaganda russa sulla conquista di questa città era falsa e al momento le forze ucraine controllano gran parte della città quindi continueremo a seguire gli sviluppi in quest'area nelle prossime ore spostandoci poi ancora più a nord vediamo scontri minori vicino alla cittadina di piscane e poi voi chask dove aspettiamo conferme di sviluppi nelle prossime ore non ho ancora elementi per confermarlo ma sembra che i russi stiano spingendo a est della città mentre provano a contrastare l'avanzata ucraina che avviene invece qualche chilometro più a ovest a nord di lipsi dove hanno da poco ottenuto un vantaggio posizionale purtroppo non posso mostrarvi aggiornamenti visivi dalla regione di kursk ma tre notizie che ci danno un'idea che vi descrivo a voce si descri si segnalano scusate diversi incendi in tutta la zona nord della regione dove sono presenti le posizioni russe e ben al di fuori della zona consolidata dagli ucraini alcuni incendi per esempio qui molto vicino alla zona principale alla via la strada principale di collegamento della regione che lo ricordo è stata fortificata e presieduta dalle unità russe poi arrivano video molto recenti in cui si vede che i pontoni e le chiatte improvvisate sul fiume seim sono state di nuovo colpite dall'aviazione ucraina e dall'artiglieria mentre si segnala il bombardamento della città di sugia da parte russa dove si vedono delle case in fiamme con i soldati ucraini che arrivano in zona con delle macchine poco più tardi per fare un sopralluogo e si chiedono come mai perché i russi bombardano quelle case visto che ci sono ancora civili russi che ci abitano e soprattutto si chiedono perché bombardano sugia visto che i soldati ucraini non stanno in città cioè non presiedono la città stanno fuori dalla città comunque dall'offensiva dell'offensiva ucraina nella regione di kursk se ne parlerà nei libri di storia perché ha sollevato parecchie questioni e dibattiti la cosa più interessante da notare è che gli stessi blogger russi iniziano a lamentarsi dicendo che sono passati troppi giorni ormai e che c'è qualcosa che non va nella narrazione della televisione e del governo dove viene detto continuamente che i nemici sono stati respinti e che è tutto sotto controllo lo stesso direttore della cia e della cia americana williams barnes in un recente in una recente intervista alla associated press ha espresso ammirazione per quanto fatto dalle forze ucraine nella regione di kursk e che hanno esposto tutte le debolezze del governo russo della sua capacità di intelligence e non ultimo del suo esercito barnes fra le altre cose ha anche parlato di quello che sta emergendo in questi giorni dello scandalo che ha visto sequestrare siti web gestiti dal cremlino e che hanno avuto lo scopo di manipolare le elezioni americane e diffondere campagne che seminano discordia intorno proprio alle presidenziali di novembre oltre alla propaganda russa sui social media e dei canali youtube di cui ho parlato ieri della famosa rt russian tv la russia è stata anche collegata da funzionari occidentali a diversi attacchi pianificati in europa tra cui un presunto complotto per bruciare aziende di proprietà ucraina a londra sia bams che moore hanno affermato poi che spie russe in questi ultimi giorni mesi stanno agendo in modo sempre più disperato e sconsiderato dice parole sue l'intelligence russa è diventata troppo selvaggia ha affermato ma andiamo avanti per quanto riguarda invece gli obiettivi strategici i droni ucraini hanno appena raggiunto obiettivi fino a 1800 chilometri distanti dai confini parole del generale budanov nella notte sono stati colpiti poi con successo il deposito ferroviario di zelonograd nella periferia a nord di mosca mandandolo in fiamme in questi giorni la rete ferroviaria russa è veramente in crisi ieri c'è stato un delagliamento a san pietroburgo e insomma questo deposito in fiamme non è un buon segno e poi è stato colpito l'ennesimo deposito di munizioni completamente distrutto a vorones qui non vi posso mostrare le immagini vi passo il link in descrizione di entrambi questi attacchi se volete vederli comunque è interessante leggere il trafiletto che dice mentre droni russi volano su pacifici quartieri residenziali a kiev col fine di uccidere i civili il servizio uav ucraino ha visitato un magazzino di munizioni a volonesque secondo il governatore locale tutti i droni sono stati abbattuti invece le detonazioni che durano da ore non sono affatto d'accordo e questo è quanto e ora parliamo invece del famoso aeroplano con le palle il su 24 perché è così letteralmente ora la storia di questo vecchio aeroplano è molto singolare ha dell'incredibile diciamo che è nato come direbbe barbascura lo youtuber italiano è nato male in un tempo in cui in cui i sovietici avevano un enorme complesso di inferiorità e facevano quello che fanno i cinesi oggi copiavano copiavano in modo spudorato come il compagno di banco che si dimenticava sempre i libri a casa e lo facevano in genere anche molto molto male comunque carissimo barbascura se sei in ascolto da pugliese a pugliese un giorno di questi io e te dovremmo incontrarci in riva al mare un incontro romantico direi per finire a tarallucci avvi e vino comunque per tornare a parlare di palle all'epoca della nascita di questo progetto del su 24 gli alti funzionari russi avevano bisogno di un nuovo bombardiere supersonico che potesse superare le prestazioni mediocri del sukoi 7 che era in realtà un caccia che era stato adattato nel ruolo di bombardiere insomma capacità di carico mediocre e di attacco al suolo mediocre non era proprio il massimo negli anni 60 invece si rendeva necessario qualcosa di più specifico potente ed efficiente e così fu applicato il metodo sovietico il migliore metodo ingegneristico sovietico cioè copiare dall'occidente a questo scopo pavel skoi che in realtà era un ingegnere molto capace decise di inviare nel 1976 al salone aereo di parigi niente po po di meno che il suo migliore ingegnere aerodinamico oleg semalovic per studiare il nuovo design dell'f 111 americano bombardiere supersonico a geometria variabile come scrisse poi nei suoi diari semalovic prese un volo d'affari per parigi per la show di parigi le bourget per studiare così il design dell'f 111 in tre giorni di visita prese qualcosa come 200 foto di questo aeroplano un centinaio solo di dettagli catturandone i dettagli delle prese d'aria delle ali del muso della cellula in generale tutte queste foto scriveva aiutarono tantissimo nello sviluppo del su 24 ora quelle che vi ho appena detto sono le memorie di oleg somalovic e mi raccomando e non confondiamoci perché poi i servizi e documentari prodotti dalla televisione russa ci dicono un po una storia diversa dicono infatti che quelle foto che fece questo ingegnere servirono solo per confermare le intuizioni e le decisioni giuste prese dallo staff tecnico di casa su coi capito cioè loro non hanno mai copiato hanno fatto sempre delle foto giusto per confermare che anche gli americani facevano le cose giuste magnifico quindi ok questo è importante comunque ora non voglio dilungarmi su questa storia perché è davvero lunga è interessante lo sviluppo di questo aeroplano però ecco quello che ci serve da sapere è che all'atto pratico il su coi 24 è stato scopiazzato ampiamente da tre aerei alla fine e si presenta come un mix perfetto fra il tsr 2 inglese f111 americano e mirage g francese e mirage f1 quest'ultimo in realtà è stato copiato solo nella soluzione del carrello che è praticamente identica e parole di pavel su coi semplicemente perché questo carrello era bello ed è vero in realtà ora il problema però in aviazione è che quando copi così spudoratamente in realtà fai le cose molto male cioè non basta copiare la forma di un f35 prendendo foto dall'esterno o un f22 per fare un aereo invisibile non funziona così insomma provate voi a realizzare una ferrari prendendo le foto da fuori no non funziona così e così il su 24 fu chiaro da subito che aveva enormi problemi di stabilità avionica e quindi vide una fase di sviluppo molto critica e molto lunga e certi problemi fra l'altro non furono mai risolti alla fine dei conti non può definirsi un aereo in grado di competere con le controparti almeno quegli aerei dei cui voleva copiare infatti non è mai stato migliore di un f111 in termini di prestazioni e carico e non ha mai avuto avioniche o soluzioni tecnologiche così particolari da gridare all'innovazione anche perché nel frattempo in america si andava avanti e proprio dall f11 prendevano vita a progetti molto innovativi alcuni per esempio ne cito alcuni come l f14 tomcat o per esempio il tornado in europa ma comunque il su 24 divenne famoso per un dettaglio di non poco conto un record se vogliamo e qui arriviamo infatti al discorso delle palle il motivo per cui ancora oggi è definito un aereo con le palle beh per dirle in parole povere se il personale a terra russo o ucraino oggi si dimentica di applicare questi blocchi che vengono chiamati palle vengono posizionati agli elevatori alle superfici in coda che servono per cabrare e picchiare per andare verso l'alto verso il basso cosa succede che questi due blocchi servono per appunto bloccare queste superfici che senza il motore acceso quindi senza pressione idraulica per il loro peso tendono a rilassarsi quindi a piegarsi in una posizione a cabrare questo significa che all'interno dell'abitacolo le due barre di comando le due cloche se non ci sono questi blocchi tendono a tirarsi tutte verso il pilota all'indietro si dice in posizione di riposo quindi si poggiano direttamente su in mezzo alle gambe dei piloti in quella posizione lì quindi se il personale si dimentica di applicare queste palle per bloccarli una cosa che può succedere è che quando il pilota accende l'aeroplano con l'arrivo della pressione idraulica la cloche delle due cloche tendono a mettersi al centro quindi si sollevano e si mettono al centro e la cosa che succede è che la cloche del copilota si impiglia nella maniglia per l'espulsione del seggiolino proprio per questo motivo il su 24 già dagli inizi della sua carriera operativa ha stabilito subito il record di espulsione del seggiolino da un aereo fermo al suolo e non in movimento salvando la vita del pilota che però non voleva lanciarsi immaginate la scena i due entrano nell'abitacolo il pilota inizia a scendere l'aeroplano e all'improvviso il copilota schizza via verso l'alto a 50 metri 50 metri d'altezza atterrando poi col paracadute poco più in là quindi insomma non è una cosa voluta ed è per questo motivo che ancora oggi i tecnici a terra devono mettere questi blocchi che bloccano i due elevatori e sono collegati con una corda ma cerco di trovarvi delle foto che ve li mostro ora nonostante il progetto di quest'aereo sia stato piuttosto infelice e i risultati non del tutto soddisfacenti bisogna invece dire che gli ucraini continuano a usarlo con grande efficienza questo vecchio bombardiere sovietico infatti è in grado oggi di lanciare i missili storm shadow contro i centri di comando le infrastrutture russe insomma realizzare anche bombardamenti a tappeto e in questi giorni stanno usando per esempio le jdm er con enorme successo che hanno di fatto distrutto ponti pontoni e chiatte sul fiume seim fra l'altro questi aerei sono responsabili anche degli attacchi che hanno colpito il ponte di kerk mesi fa al momento questo aereo è molto utile anche per testare le bombe plananti prodotte in ucraina in questa foto vediamo proprio il settimo gruppo bombardieri e si vede proprio un su 24 che viene ripreso suppongo da un mig 29 dell'ottocento trentunesimo gruppo caccia bene chiusa parentesi aeronautica passiamo avanti l'esercito russo che ricordiamolo parole di putin è lì per liberare l'ucraina dal nazismo poi invece si scopre che gli abitanti di mariupol non sono molto contenti della situazione e dell'occupazione da parte russa infatti dicono due anni fa da due anni scusate da due anni viviamo come barboni siamo persone ma non ci considerate tali ci avete ridotto in miseria gli appartamenti ristrutturati vengono venduti ai russi che vogliono la casetta al mare anziché essere restituiti ai legittimi proprietari già del resto no a che serve fare una guerra se non puoi non puoi rubare la proprietà altrui e farci la villa sul mare no a proposito passando a quest'altro video abbiamo il solito nostro amico della televisione russa che è un genio veramente che dice andare in europa e per che cosa i vestiti tanto li fa la cina in ogni caso le macchine cinesi sono le migliori e più avanzate di quelle europee ok poi continua le infrastrutture le infrastrutture sono un completo fallimento le strade sono sporche nessun servizio e in più non è sicuro lì a questo punto il tizio con gli occhiali dice però vabbè un attimo è in europa hanno edifici bellissimi ma aspetta un altro un attimo dice il presentatore sì però ho fatto un giro a shanghai per esempio vuoi venezia eccola la trovi a shanghai shanghai perché ti preoccupi se vai a dubai è la stessa cosa hanno il louvre a dubai vuoi il louvre lo trovi a dubai e se ci pensi cosa c'è in europa una popolazione che invecchia male educata guarda annalena barbock che un attimo giusto per capire chi è il ministro degli affari esteri tedesco che fra l'altro è anche un ambientalista dalle un occhiata e poi dici che cosa sta facendo l'europa ok allora è chiaro che sta fa sempre discorsi così completamente privi di senso però intanto vorrei giusto far notare che forse lui vive in uno specchio dove le strade sono perfette e non credo che a mosca tutte le strade sono perfette però penso che invece nella grande maggioranza del territorio russo le strade non ci sono neanche se poi parliamo di criminalità ecco mi collego anche a un discorso che ha fatto il capellone cotonato che si sta accandinando alle presidenziali americane in cui ha detto che no in russia non c'è criminalità che la criminalità la criminalità è solo in america in realtà no nel senso se si fanno un po di ricerche la situazione in russia è drammatica perché soprattutto per via della guerra perché qualcuno torna dalla guerra queste persone hanno tutte grandissimi problemi psicologici e infatti le notizie di cronaca russe sono piuttosto drammatiche con questi soggetti che tornano dalla guerra ok fra l'altro questo presentatore notoriamente è un imbecille non si può dire il contrario fra l'altro ha parlato anche un altro video dice di raggiungere l'oceano atlantico perché fra le altre cose lui ha bisogno di riprendersi il suo cottage sul lago di como ma appunto no come rispondere a uno che dice che puoi trovare venezia a shanghai e il louvre a dubai no non gli rispondi perché le cose che dice sono di una stupidità immensa è sconcertante ma il fatto che stia parlando sull'analogo di rai 1 in russia letteralmente a milioni di persone insomma questo sì è preoccupante e quindi con questo mi rivolgo ancora ai filorussi italiani pensateci quando difendete la russia che ci vuole vedere come incivili senza cultura con questi uomini di spettacolo che fanno questi discorsi mentre si comprano le ville sul lago di como e disprezzano il nostro paese pensateci quando dicono che noi non abbiamo strade visto che la stragrande maggioranza dei russi alla fine non ha neanche il gabinetto la doccia e la lavatrice a casa quindi magari ecco qualche dubbio dovrebbe venire sul chi si copre di ridicolo dicendo un mucchio di idiozie quindi meditate meditate gente e con questo è tutto per oggi come sempre un abbraccio vi auguro un buon fine settimana alla prossima